Questa è una particolare d'acqua che si trova al Dubai Museum Refuge. Praticamente questo è un combinatore di profumi. Ogni profumo costa 145 titan. Praticamente queste qui sono tutta una serie di essenze. Viene programmata la tipologia di profumo che si vuole realizzare tramite questo programmatore e praticamente verranno quindi somministrate ad hoc. Le varie componenti, le varie fragranze. Verrà quindi realizzato il profumo che verrà appunto posizionato su questi nastri combinatosi, su questi nastri trasportatori. Questi sono poi i tappini di chiusura. Molto molto particolare. Quindi un profumo a tutti gli effetti personalizzato ad hoc. Dubai Museum of Future Grazie. 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 Grazie.